Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto particolare. Qualche giorno fa, nel caso non lo sapeste, è uscita un'idea molto carina in una mia live, l'ultima che ho fatto, nella quale avevo proposto, o meglio mi era stato proposto, di fare una battaglia su Showdown con un team che rappresentasse in un certo senso l'intero canale. Ho pensato però, come potrei rendere questa sfida ancora più rappresentativa di questo canale? E ho pensato che, siccome un canale non è un canale senza chi lo segue, potrei, per così dire, estrarre uno di voi nei commenti e farlo partecipare appunto a questa battaglia, magari insieme a me, in una chiamata Skype, oppure su Telegram o su Discord, un qualsiasi programma che permette la comunicazione, diciamo, vocale, ecco. Ed ecco che in questo video voglio appunto fare questo contest. Per partecipare non servirà altro che scrivere qua sotto nei commenti partecipo, il fortunato vincitore appunto avrà l'opportunità di fare questa battaglia su Showdown, che ovviamente diverrà un video, in chiamata vocale insieme a me, e appunto partecipare a questo particolare video. Penso sia un'idea molto carina, penso che, spero più che altro che partecipino in molti, i vincitori potrebbero essere anche più di uno volendo. E nulla, spero che questa idea vi piaccia, partecipate in molti, le estrazioni del contest avverranno non so quando, e nulla, noi ci becchiamo in un prossimo video. E nulla, noi ci becchiamo in un prossimo video.